Buonasera a tutti, Vuelta a Espagna 2021, i protagonisti al via. E' uscita non molte ore fa la start lift ufficiale della grande corsa a tappa iberica e andiamo a vedere chi saranno i 184 protagonisti delle 23 squadre invitate. Non tutti e 184 perché alcuni corritori io obiettivamente non li conosco. Alla Vuelta di solito le squadre schierano molti big, appunto quelli che magari vogliono riscattarsi dopo il Tour de France o che comunque proseguono la loro stagione dopo la Gran Bucle dal momento che la stagione di fatto dopo la Vuelta finisce al di là che c'è il Mondiale, c'è il Lombardia eccetera. Quindi ci sono molti big ma ci sono anche molti giovani che le squadre schierano per far far loro esperienza appunto lungo tre settimane e io obiettivamente alcuni di questi non li conosco e cercherò invece di parlare insomma di quelli che conosco. Comunque sono abbastanza. Il vincitore uscente Primo Zlogic cerca la tripletta, ha vinto nel 2019, ha vinto nel 2020 e ha vinto di recente, un po' a sorpresa, la crono olimpica. Dopo il ritiro al Tour de France per le conseguenze del caduto, il Corridore sloveno va detto che si è preparato specificatamente per la prova contro il tempo di Tokyo che ha letteralmente dominato. Ecco vedremo se questo fatto di aver fatto una preparazione specifica per la cronometro potrebbe condizionare il rendimento invece in salita in questa Vuelta. Vuelta che come al solito ne presenta tante di salite, abbiamo fatto il video sul percorso due giorni fa. Sa di fatto che il Corridore sloveno, ex saltatore con gli scivoli al numero uno, avrà una squadra forte al suo servizio. Insomma, Kroosvik non è certo un Corridore scaso, diciamo, nei grandi G, un Corridore che ha fatto podio al Tour de France, un Corridore che ha sfidato la vittoria agilità del 2016, un Corridore riduce da un Tour de France molto deudente, da una stagione complesso deudente, poi c'è Sepp Kuss che ha dominato la tappa di montagna di Andorra, appunto il Tour de France, e qui sarà da spalla ideale per Rovic o eventualmente da capitano qualora il Corridore sloveno dovesse paesare delle difficoltà in salita. Fermo restando che lo stesso Kroosvik potrebbe ambire a sua volta a un ruolo di capitano qualora ritrovasse la condizione ideale. E poi ci sono altri uomini importanti per la salita, Bowman che ha concluso nei primi 15 al Giro d'Italia, Samomen che ha concluso in passato nei primi 15 sempre al Giro d'Italia, se non erano nel 2018, e poi il veterano Gasing, il veterano Gasing si rivelò proprio alla Vuelta nel 2009, molto giovane, sfidò il podio in quell'occasione, nella Vuelta vinta da Valverde, e poi ha completato una formazione offstede e vanoidonc. Andiamo ora a vedere la prossima formazione, si tratta dell'Age de Serre, le formazioni alla Vuelta sono ordinate in ordine alfabetico, quindi con numeri di gara, il capitano Bouchard che ha conquistato la maglia del dimiglio scalatore, la maglia azzurra, al Giro d'Italia, però l'uomo di classifico potrebbe essere in realtà Champou-sen, che ha fatto buone cose alla Vuelta già un anno fa, anche lui si è presentato al VIA in questa stagione al Giro d'Italia, però ha dovuto abbandonarlo per problemi fisici. The Wolf potrebbe essere un buon scalatore, potrebbe essere una delle sorprese, fatto bene anche lui nel Vuelta 2020 in alcune tappe di montagna, poi ci sono gli sperimentati Calmejan e Sherelle, che gli vedemmo spesso in fuga, mentre per le volate l'uomo di punta è Venturini, un Venturini che si raccava bene anche non solo nelle volate di gruppo, ma è un corridore che tiene anche sui beri strappi, e quindi potrebbe disputarsi anche delle frazioni che presentano delle salite nel finale, alcune ce ne sono in questa Vuelta, penso a quella di Cordoba ad esempio. Passiamo all'Alpesin Phoenix, il capitano è Jay Vine, e subito dopo con il numero 22 Tobias Bayer, questi due sono giovani e hanno fatto molto bene la Vuelta a Burgos nell'età app in salita, mentre per il resto la formazione è improntata essenzialmente alle volate con Jasper Philipsen, che ha già vinto tappe alla Vuelta, che avrà come spalla di lusso per gli sprint il nostro Sacha Modulo, un Sacha Modulo che in realtà è un po' a ribasso nelle ultime stagioni, e poi insomma abbastanza non dovrebbero fare grandi cose, dovrebbero svolgere essenzialmente un ruolo di regaliato gli altri, The Tier, Krieger, Plankart e Twales. Passiamo alla Astana, una Astana che si schiera con ben sei corridori spagnoli, però il capitano è Alexander Vlasov, un Vlasov che ne avvenza due anni fa aveva perso molti minuti nelle prime tappe di montagna nei Paesi Baschi, e per questo aveva concluso l'undicesimo posto nella Cassiva Generale, però vale certamente di più il corridore Kazako, che in questa stagione ha fatto vedere buone cose non solo in salita ma anche a cronometro, e il suo obiettivo sarà il podio, anche se non sarà comunque facile centrarlo, la sua principale spagna in salita dovrebbe essere Ioni Zaghiro, e in seconda battuta il fratello Gorka, Aramburu e Freire che sono due corridori molto veloci e cercheranno di andare a caccia di tappe nelle frazioni intermedie, anche se Freire ha fatto molto bene anche in salita al Tour de France, va detto, Oscar Rodriguez è un altro buon scalatore, Winston Sanchez è un altro atleta di grande esperienza, è un atleta che sa come vincere con le azioni da finissare nel finale, e poi completa formazione il Kazako, Yuri Nadalov. Passiamo ora alla Bahrain Victorious, una delle formazioni più quotate certamente, il capitano è Michellanda, reduce dall'infortunio che lo ha costretto a ritiro il Gio d'Italia, ma reduce anche dalla vittoria alla recente Vuelta Burgos, l'obiettivo minimo per il corridore basso e il podio, però non c'è nulla di strano se riuscisse a lottare anche per la vittoria, e avrà degli uomini molto importanti a spadeggiarlo in salita, Jack Hague sta facendo molto bene al Tour de France, e poi anche lui costretto a ritiro per una caduta, c'è ovviamente Damiano Caruso, ricordiamo, secondo al Gio d'Italia in cui ha conquistato il cuore dei tifosi italiani, c'è Mark Padun che ha dominato le due tappe di montagna del Gio del Delfinato, poi non ha preso parte al Tour de France perché aveva in programma proprio la Vuelta, poi dunque ha fatto anche lui piuttosto bene anche alla Vuelta a Burgos, poi non dimentichiamo Volt Purs che ha sfiorato la maglia più alto al Tour de France, ed ha concluso nei primi dieci comunque il classifico generale nella Vuelta del 2020, e in passato anche in altre cose a tappe, c'è Gino Meder che ha vinto una tappa di montagna al Gio di Svizzera, altro re da giovane ma molto forte, c'è Ian Trattnick, Ottimo Cronman e poi il regista in corsa, l'uomo di esperienza, sai il giapponese Arashio, quindi una barena decisamente competitiva in questa Vuelta. La Bora Hansgrohe ha come capitano Felix Groschatten, se non è arrivato nono la Vuelta del 2020, ha deluso abbastanza il Gio d'Italia invece quest'anno, l'abbiamo visto all'attacco nella tappe dell'alpe motta, ma ha cambiato comunque pochino, specialmente in salita, ci raccherà il riscatto in questa Vuelta. C'è Schakman, un atleta adattissimo alle classi come quelle delle Ardenne, come quelle del Gio di Lombardia, è un atleta che va anche forte a cronometro, e cercherà di andare a caccia di successi parziali. Poi c'è questo polacco, Cesare Benedetti, che ovviamente non è polacco ma italiano, sua moglie è polacca e per questo ha preso la cittadinanza di questa nazione, e insomma per la prima volta si schiererà come polacco in questa edizione della Vuelta. Poi c'è Patrick Gump, il buon scalatore, che dovrebbe essere a spalla di Josh Hart nelle frazioni più impegnative, e poi a completare la formazione Lars, Meus, Palser e Zvizov, che obiettivamente conosco poco questi quattro corritori submenzionati. Passiamo alla Burgos, una delle formazioni spagnoli invitate, capitano, uomo di esperienza è Daniel Navarro, che in passato ha chiuso nei primi dieci sia al tour che alla Vuelta, in classico generale, oltre che adesso è stato per molti anni gregario di Alberto Contador, anche se probabilmente l'uomo più quotato in salita potrebbe essere anche il Matrazzo, che l'abbiamo visto già spesso all'attacco nelle scorse edizioni della Vuelta, con anche la maglia di miglior scalatore. Anche Okamica e Boll, sono due corritori che si agavano piuttosto bene in salita, e poi completano la formazione Alcabedro, che è un atleta già sperimentato, che comunque non ha mai fatto grandi cose in realtà, e poi a seguire Canal, Diego Rubio e Pelaglio Sanchez. Chiaramente certamente non è la Burgos la formazione che deve fare la differenza in questa Vuelta, è idem di casi per la Caglia Rural. Caglia Rural, il capitano è Jonathan Lastra, è un buon scalatore, anche se non ha mai fatto grandi cose in passato alla Vuelta, non è la prima volta che si presenta via. C'è Aperastui, che è un ottimo velocista, ha vinto anche di recentemente, se non era proprio la Vuelta a Burgos sulla tappa. Jefferson Sopeta è solo omonimo di quello dell'Androni, che è impressionato al Tour of the Hubs, ma è anche lui comunque un buon scalatore, vedremo se riuscirà a dimostrare queste sue doti in montagna. E stesso discorso anche per Amezcheta, che aveva anche lui iniziato la sua carriera in Italia, se non ero con la Vini Fantina, formazione di Giovanni Visconti per Carici. E poi via via tutti gli altri, Baghez, Quadros, Lazzcano e Sergio Martin, per questa formazione che schia a sette spagnoli su otto. Passiamo alla Cofidis, una Cofidis che si è sempre schierata con formazioni piuttosto competitive, alla Vuelta, lo sponsor a grandi interessi in Spagna, evidentemente. Ricordiamo le quattro maglie a maglia a puati, miglior scalatori consecutive conquistati da David Moncoutier, a cavallo degli anni praticamente 2000, 2000 e 2000, inizio 2010. Capitano Guillaume Martin, Guillaume Martin che è riuscito ad arrivare finalmente nei primi 10 al Tour de France, dopo che per lungo tempo è andato a caccia di questo obiettivo. Vedremo se ne saprà confermarsi a questa Vuelta, se punterà piuttosto alle vittorie tappe, magari alla Maglia Poix. I due errada sono a loro volta dei buoni scalatori, più Esus di Osea, di El Velo. Esus che è un odore del vero, viene da un Tour de France piuttosto deudente. Rochas, a disputare il Giro d'Italia senza brillare, si ripresenta qui alla Vuelta, completa la formazione Allégard, Finet e il figlio d'arte Emmanuel Moren. Passiamo alla De Kening Quickstep, non c'è Almeida che avrebbe voluto fare molto bene alla Vuelta, ma invece è impegnato al Giro di Polonia, con ottima possibilità di vincerlo, tra l'altro. Il nome di punta è Fabio Jakobsen, il velocista, e a proposito di Giro di Polonia, ricordiamo il bruttissimo incidente di un anno fa con Gronne Wegen, e si ripresenta in un grande palcoscenico, andando a caccia di vittorie di tappa. Vedremo se riuscirà in questo obiettivo. Gli uomini di classifica potrebbero essere Nox, che ha fatto molto bene al Giro d'Italia del 2020, e anche la Vuelta del 2019, sfiorando la top ten in entrambi i casi, e invece deluso al Giro di quest'anno. E poi c'è il figlio d'arto, figlio d'arte, Evan Sevenant, un corridore tra i più brutti da vedere a livello stilistico, però è un corridore che ha dimostrato di andare molto forte in corse come il Giro dei Paesi Baschi, e poi le classiche delle Ardenne. C'è lo sperimentato Zdeni Ex-Tiber, l'ex ciclocrossista, così come un uomo di esperienza anche Snescial, c'è Cerni, ottimo Cronomen, che non ricordo se l'ho già citato, e poi c'è il nostro Andrea Baggioli. Cosa dire di Andrea Baggioli? Nello scorsa estate ha sorpreso tutti, ha vinto una tappa al Tour de L'Enne, battendo Primo Zlovic, ha fatto molto bene anche in altre corse, anche alla Vuelta del 2020, nelle prime tappe, poi è stato il cosiddetto ritiro stava facendo. Quest'anno ha grossi problemi fisici per lui, lo suo stato di forma è un'incognita, qualora fosse quello del 2020, anche lui potrebbe essere protagonista nelle tappe intermedie, lui che è un corridore anche molto veloce, oltre ad essere uno che tiene sugli strappi. Staremo a vedere quello che si fa a combinare il tratto italiano della The Kening Quick Step. Passiamo alla Education Nippo, che come al solito è stata una delle ultime formazioni ad annunciare il roster. Non c'è Rigoberto Ran, che ha dato forfè all'ultimo minuto, e quindi il capitano unico sarà Hugh Carty, che andrà a caccia del podio, un podio che ha sfiorato alla Vuelta del 2020, mentre al Giro d'Italia, quest'anno non dico deluso, però non è andato oltre, se non era l'ottavo posto nella classifica generale, probabilmente ci si aspettava qualcosa di più da lui. Carty che ricordiamo ha vinto la tappa del Langlio, nella Vuelta del 2020, e ha fatto molto bene anche la Vuelta a Burgos, ha vinto l'ultima tappa di montagna, con l'arrivo a Laguna Svenela, quindi sicuramente si presenta, in questa corsa a tappa iberica, in ottima condizione. Avrà delle spalle valide in salita, che sono Kaiseido, Karo, Kradok e Camargo, ricordiamo Kaiseido vincitore della Vuelta, al Giro d'Italia del 2020, Karo l'abbiamo visto in evidenza, invece al Giro di quest'anno, nella tappa del Jau, quella che si è conclusa a Cortina, poi c'è Magnus Kortniss, ottimo cronomen, Kekerer che è un uomo di esperienza, e Sculli, Torscalli che dovrà, presumibilmente, fare il lavoro sporto in pianura. Passiamo alla Euskatelle Euskadi, una bella notizia per il ciclismo, ritrovare la storica maglia trancione, di questa formazione basca, la formazione che è stata di Bammaio, di Zubelvia, di Samuel Sanchez, di Igor Anton, Sanchez non era basco, di Del Vero, era asturiano, però ha disputato tutta la trafila, delle giovanili, pur nell'Euskatelle, e questo faceva sì che potesse, indossare questa maglia, che è stata indossata per tanti anni, solamente da corridori baschi. I più quotati sono, e Bizkarra e Lobato, e Rituria scusate, ambedue ottimi scalatori, c'è un uomo di esperienza, come lui sangue il Marte, che ha corso per tanti anni, nella Cofidis, e altro uomo di esperienza, un uomo se è Lobato, mentre invece, provranno a fare, a fare qualcosa di buono, entrando soprattutto nelle fughe, gli altri a Sparenbo, e Gorzo Martin, e Antonio Lillus Soto. Passiamo alla formazione numero 13, la gruppa MaFDG, non c'è tipo Pinot, che non ha ancora risolto, i problemi fisici, che gli hanno impedito, di prendere via il Giro d'Italia, anche se, si ripresenterà le cose, al tour di un limousine, non c'è neppure Godou, che ha vinto due tappe, nella vuolta del 2020, e ha fatto, abbastanza bene, l'ultimo tour de France, la formazione, è tutta per Arno de Mar, che, visto che non ci danno, grandissimi velocisti, in questa vuolta, potrà andare a cazzo, di molte tappe, avrà, Jacopo Guarnieri, come pesce pilota, insomma, che ha già dimostrato, di essere uno dei migliori, in questo luogo, e in questo, in questo ruolo, i vari genietti, Legat, Ludwigson, che è anche un ottimo agronomo, l'esperto a Rooks, e Sinkerman, dovranno presumibilmente, tirare in pianura, quello che potrebbe, curare un minimo la classifica, invece, il francese Rudy Moulart, un atleta che si difende, soprattutto, nelle salite brevi, a dire non è vero, in quelle più lunghe, fatica di più, Moulart, che è stato anche, leader della classifica generale, alla vuolta, per qualche giorno, nel 2018, e ora passiamo, a una delle corazzate, la Ineos Grenadiers, il capitano dovrebbe essere Bernal, Bernal che ha vinto, il giro d'Italia, non ha brillato, particolarmente, alla vuolta a Burgos, di il vero, lui che convive, sempre con i problemi, alla schiena, che non gli hanno comunque, impedito di vincere, la corsa rosa, c'è Richard Carapaz, campione olimpico, a Tokyo, nella prova in linea, terzo al Tour de France, secondo, la vuolta di un anno fa, a pochi secondi da Roglic, vedremo, quale potrà essere, il ruolo del corridore, ecuadoriano, e vedremo anche, che cosa riuscì a fare, Adam Yates, un Adam Yates, che ha fatto molto bene, in primavera, ha vinto il giro di Catalogna, ad esempio, e si è preparato, specificatamente, per questa vuolta, quindi attenzione anche a lui, oltre che a Bernal, e a Carapaz, e poi c'è, un altro campione olimpico, Thomas Pitcock, il giovanissimo corridore britannico, che si è imposto, nella prova di mountain bike, ma ha già dimostrato, anche su Stadion, di andare molto forte, sia a cronometro, che in salita, c'è un uomo importante, come Pavel Sivakov, che è un po' ribasso, in questa sezione, però ha fatto discretamente, bene alla Vuelta Burgos, e sarà comunque, un gregario importante, in montagna, c'è Narváez, già vincitore, di una tappa, al Giro d'Italia, del 2020, c'è Puccio, che sarà il regista in corsa, oltre che l'uomo deputato, a tirare a lungo in pianura, e poi c'è Dinan Van Bale, che anche lui abbiamo visto, bene in evidenza, al Tour de France, il supporto di Carapaz, abbiamo visto a tirare, a lungo ad esempio, nella tappa del Tour Malé, quindi una formazione, sicuramente tra le più attrezzate, quella britannica, del resto come al solito, quando si tratta di cover, un grande giro. Passiamo alla Intermarché, il capitano per l'aggressiva generale, Luis Mendes, che è arrivato nei primi 15, del Tour de France, e cercherà di fare, qualcosina di meglio, qui alla volta, lui che è arrivato, dodicesimo nel 2017, se non erro, anche se le cose migliori, le ha sempre fatte, appunto al Tour de France, però un corridoio, un po' in ribasso, il Sudafricano, nelle ultime stagioni. Altri due atleti, che vanno forte in salita, sulla carta, sono Yanir, del Rey in Tarame, che dovrebbero, puntare più, alle singole tappe, che non alla classifica, c'è anche il nostro, Simone Petilli, come passista scalatore, mentre per le volate, ci saranno il figlio d'arte, Riccardo Minali, e il lorandese Crader, e non dimentichiamo, eppure, o Christian Eiching, che è un corridore, che va molto forte, sulle brevi salite, anche abbastanza veloce, quindi potrebbe andare, anche lui a caccia, dei successi parziali, e poi a completare, la formazione, il belga, e Kevin Van Mensen, passiamo alla Israel, la Israel, che è offana, di Daniel Martin, terza un anno fa, e offana, anche di Chris Froome, insomma, una formazione decisamente, poco quotata, soprattutto, nelle tappe più impegnative, dove solo James Piccoli, potrebbe provare, a rimanere con i migliori, nelle tappe in montagna, però attenzione, alle volate, di Cimolai, della teta italiana, che potrebbe fare bene, appunto, nelle frazioni, che si concluderanno, a Sprintac, perché avrà tutta la formazione, al suo servizio, con i vari Berwick, Cataford, i due israeliani, Heinol e Niv, Niv l'abbiamo già visto, in corsa, al Giro d'Italia, anche in questa stagione, Will Smith, è anche un ottimo cronoman, quindi potrebbe fare bene, nella prova contro il tempo, conclusiva, in quella di Compostela, e anche in quella, inaugurale a Burgos, Passiamo all'otto Sudal, non c'è Calibiuan, che ha dato forfè, all'ultimo minuto, sarebbe stato sicuramente, il favorito, nelle tappe, con gli arrivi allo sprint, cron, il capitano, è giovane, è un buon scalatore, ha vinto una tappa, al Giro di Svizzera, in questa stagione, in verità, aveva tagliato il traguardo, per primo ricosta, però poi, l'ex campione del mondo portoghese, è stato squalificato, e quindi la vittoria, è andata a cron, un altro corridore, che sulla carta, va forte in salita, è Matthew Holmes, e idem dicasi, anche per il belga, Vanucche, che l'abbiamo visto in evidenza, al Giro d'Italia, soprattutto nel 2020, mentre invece, in cuo di quest'anno, ha combinato, a dire il vero pochino, e poi completano formazioni, tanti belgi, Kras, Frison, Frison che potrebbe essere, figlio d'arte, ma connessissamente non lo so, Monique, Van Geese, e Vermersh, comunque, non certo una formazione, una delle formazioni più quotate, all'otto Sudal, mentre invece lo è, la Movistar, la Movistar, che schiera quasi tutti, i suoi grossi calibri, ad eccezione di Marc Soler, che ricordiamo, si è ritirato per caduzzi, al Giro, che al Tour de France, e chi sa, il capitano della Movistar, il numero, il numero che termina con l'uno, diciamo, è stato assegnato a Enric Mass, un Enric Mass, che è già salito sul podio, alla volta, nel 2018, però, il leader potrebbe benissimo, essere anche, Michel Angel Lopez, che deve riscattare, un Tour de France, completamente a dimenticare, probabilmente condizionato, dalle cadute, e la sensazione, è che lo scatore colombiano, si sia preparato, molto bene, per questa volta, quindi, non ci sarebbe, non sarebbe, affatto una sorpresa, se salisse sul podio, o anche meglio, poi c'è l'Eterno Valverde, un Valverde, che si metterà, sia a disposizione, di Mass e di Lopez, ma farà anche, la sua classifica generale, cercando magari, di entrare nei primi dieci, oltre che andare a caccia, di successi parziali, Verona, che anche lui, a disputare il Tour de France, non ha brillato, anche lui per via delle cadute, sarà un uomo importante, nell'etapa di montagna, e poi c'è Oliveira, ottimo Cronomen, e Viti, è un uomo di esperienza, che dovrà tirare in pianura, stesso discorso per Roas, e conclude, la completa formazione, il giovane svizzero, Jacobs, fa un po' specie, vedere uno svizzero, che corre in questa formazione, che ricordiamo, è l'erede della Banesto, di Michelin Durain, passiamo alla Bike Exchange, non c'è Simon Yates, che ha vinto la VLT nel 2018, però in questa stagione, ricordiamo, ha disputato, sia il Gio d'Italia, che il Tour de France, l'uomo di classifra, dovrebbe essere Michel Nieve, che ha fatto molto bene, alla VLT a Burgos, un corridore, che è abituato, a chiudere nei primi 10, nella classifra generale, dei grandi giri, anche se, è un po' avanti con gli anni, e non ha brillato, particolarmente, nelle ultime stagioni, un altro ottimo scavatore, è Lucas Hamilton, Lucas Hamilton, che ricordiamo, si è dovuto, anche lui, ritirare al Tour de France, per le conseguenze, delle cadute, così come, anche gli altri due istraliani, Schultz e Stannard, sono uomini, che si difendono, in salita, idem anche, idem di che sia anche, per il Kazak, o Zayt, mentre, a caccia di successi parziali, soprattutto, in quelle tappe, che si concluderanno, nelle volate, ma non di un gruppo compatto, ci sarà, Michael Matthews, che ricordiamo, ha sfiduato, la maglia verde, al Tour de France, di quest'anno, non ha chiuso, troppo lontano, nei classifri appunti, l'avvencitore, Mark Cavendish, e poi, c'è anche, Lucas Mates, Mates Gekce, che ha già dimostrato, di vincere, di sapere vincere, la vuetta, e sarà la spalla, di Matthews, negli origini in volata, e completa formazione, Damien, o Damien Oussel, che altro, che è un altro uomo, che comunque, che ha dimostrato, di sapesse difendere, in salita, nel passato, passiamo al team, di SM, non c'è, Indri, che è impegnato, al giro di Polonia, dove sta facendo, anche piuttosto bene, e quindi, avisa un capitano unico, Romain Bardet, un Romain Bardet, che ha dominato, la tappa, della, la vuelta a Burgos, che prevedeva, a scala del Picon Blanco, e sembrava avviato, successo finale, però, nella fase successiva, è caduto, accusa problemi, alla schiena, e quindi, non sappiamo, in quale condizione, si presenti, a questa vuelta, certo, se fosse quello, il Picon Blanco, attenzione a lui, anche, in chiave di podio, avrà, tre uomini, principali, in grado, di supportarlo in montagna, che sono, Ames, Mann e, Stoller, ambie due, abbastanza giovani, e Stoller, l'abbiamo visto, anche al Giro d'Italia, l'abbiamo visto, ad esempio, nella tappa di Sega, di Allen, che è stato, l'importante supporto, per Bardet, che aveva, una giornata nuova, quel giorno, anche Chris Hamilton, un buon scalatore, Aga, è un ottimo, cronoman, che è stato capace, anche di vincere, una cronoman, al Giro d'Italia, in quel di Verona, il nostro dainese, potrà provare a dire la sua, negli arrivi in volata, e poi, completa una formazione denso, ottimo discesista, e l'olandese, il veterano olandese, Tussfeld. Passiamo, siamo ormai quasi, giunti alla conclusione, di questa presentazione, passiamo al Team Kubeka, Fabio Aru. Ecco, Fabio Aru, è la notizia del giorno, perché, improvvisamente, a due giorni, dalla partenza, della vuelta, e, dopo un, un buon periodo per lui, è arrivato secondo, dapprima, in una corsa minore o meno, il Sibio Tour, e poi, soprattutto, è arrivato secondo, la vuelta a Burgos, anche se è aiutato, da circostanze particolari, ecco, Fabio Aru, che ha, debuttato come protagonista, come professionista, nel 2013, e ha vinto la vuelta, nel 2015, così, di punto in bianco, ha annunciato il ritiro, dall'attività agonistica, al termine, di questa vuelta, e, che cosa possiamo dire, prendiamo atto, di questa decisione, evidentemente, a motivi familiari, che lo hanno spinto, a fare questo passo, che, di fatto, vedremo, se riuscirà a essere competitivo, comunque, in questa corsa a tappa eberica, magari, per entrare nei primi dieci, in classifica generale, doveva esserci, anche l'altro, italiano, il Lucano Domenico Pozzo Vivo, nella, in questa formazione, che aveva, anche lui, aveva fatto molto bene, nella tappa del Picon Blanco, la vuelta a Burgos, però, anche lui, è caduto il giorno successivo, è stato costretto a ritiro, e, quindi, non riuscirà, a presentarsi a via, in questa vuelta, l'alternativa d'Aru, per la classifica generale, dovrebbe essere, Sergio Henao, che, è già arrivato, quindicesimo, nella vuelta del 2020, ad esempio, è fatto benino, anche se non benissimo, all'ultimo Tour de France, e, un altro discreto scalatore, è, Jan Seman Reisburg, è uno dei due fratelli, l'altro è, eh, Jacques, che non è presente, in questa vuelta, i due fratelli, eh, Sudafricani, Lindeman, ha già vinto, una tappa di montagna, alla vuelta, andando in fuga, se non ero, eravamo nel, 2014, e, quando Fabio Aro, debuttò, proprio, nella, corsa a tappa spagnola, anche lì, face molto bene, arrivò quinto, se non ero, in classifica generale, e, completa una formazione armè, discreto scalatore, anche lui, Brown, Claes, e il figlio d'arte, Dylan Sunderland, ricordiamo, il padre ha corso anche in Italia, nell'Alessio, nei primi anni 2000. Passiamo alla Trex Gaffeto, che ha un capitano, anche lei, italiano, Giulio Ciccone, che cosa dire, del corridore abruzzese, ha fatto piuttosto bene, nelle ultime corse, nella classica di San Sebastiano, in particolare, al giro, è in lotta per il podio, probabilmente, non ci sarebbe salito, ma, comunque, quantomeno nei primi 5-6, sarebbe finito, purtroppo, ricordiamo, è caduto, nella tappa di Sega di Ala, ed è stato costretto, al ritiro, il giorno successivo, e, quindi, per questo, non ha potuto, conquistare, quel piazzamento, sul podio, ridosso, che, di cui, certamente, aveva le potenzialità, ad appoggiato, ci saranno, due scalatori di esperienza, il nostro, Brambilla, e il francese, di Sonde, ricordiamo, il Sonde ha vinto, sull'Anglio, la Vuelta, nel 2013, è arrivato anche secondo, quest'anno, il Tour de France, nella tappa di Marosenne, quella con il Mont Ventoux, ci sarà, il fratellino minore, di, di Vincenzo Nibali, Antonio, Mentre, chiaramente, Vincenzo, non prendeva il via, dopo aver già disputato, sia il Giro d'Italia, che il Tour de France, e, un buon scalatore, anche, Juan Pedro Lopez, e, poi, completano, la formazione, ai volti nuovi, Kirsch, Reinen, e Simons, e, odio, Reinen, l'abbiamo già visto, più volte, in realtà, anche, nei grandi giri, e, conclude, questa, rassegna, di, 23 formazione, via, la, WM Team Emirates, che, avrebbe dovuto, schierare l'età dei Pogacar, però, il corridore, sloveno, che, ha già disputato, a tutta la primavera, vincendo, la Tireno di Attico, a Liegi Bastoglieci, ha dominato il Tour de France, è arrivato terzo, nella prova in linea, di Tokyo, Pogacar, ha deciso, quindi, di dare forfè, e, direi che, è molto probabile, che vedremo, il giovane fuori classe, appunto, della UE, al Giro d'Italia, del, 2022, oltre che, chiaramente, al Tour de France, non dimentichiamo, che la UE, è una formazione, che ha una forte matrice italiana, essendo l'erede, della Lampre, il capitano, sarà quindi, della Cruz, che è arrivato, settimo, un anno fa, alla Vuelta, un corridore, che, non va fortissimo, né in salita, né a cronometro, ma si difende, in ambe due, queste specialità, e, Vremont, cosa saprà fare, anche, Rafa Maika, che è già arrivato, sul podio, alla Vuelta, nel 2015, proprio quella, vinta da Fabio Aou, è un Rafa Maika, che ha fatto bene, le tappe di montagna, al Tour de France, e potrebbe essere lui, l'alternativa, a De La Cruz, o magari, il vero capitano, della UE, e, altri due, scalatori, sono, Joe Dombrovski, e Jan Polans, che hanno già vinto, tappe al Giro d'Italia, in passato, Dombrovski, si è imposto, in questa stagione, a tappa di Sessola, mentre Polans, ha vinto, due, in salita, alla Betone, e sull'Etna, chiaramente, entrambi, erano andati in fuga, mentre, gli altri quattro, sono votati alle volate, e, Molano, ha fatto molto bene, la Vuelta a Burgos, ha vinto due tappe, lui, che aveva fatto, soprattutto, di Sassi, invece, del Giro d'Italia, quando era, sulla carta, il pesce pilota, di Gaviria, c'è il nostro, Matteo Trentin, che, che non è più, forse, la reta di qualche anno fa, però, ha fatto anche lui, discretamente bene, nelle ultime corse, lui, Oliveira, è, un, è l'uomo, che dovrà, presumibilmente, tirare, sudafricano, che è un corridore, che si difende, anche, abbastanza bene, nelle brevi salite, e, sarà anche lui, da spalla, al Colombiano, negli arrivi in volata, bene, abbiamo dunque, concluso, con, con questa, presentazione, della, dei corridori, della via della Vuelta, chi sarà il favorito, probabilmente, Robic, però abbiamo detto, l'incognita, sulle, sulle sue, condizioni fisiche, in particolare, sulla sua preparazione, per le lunghe salite, visto che, ultimamente, ha pensato, soprattutto, per fare, l'agonometro olimpica, c'è Bernal, con, tutto, il squadrone, della Inos, a seguito, però, anche lui, un'incognita, per via, dei consueti problemi, alla schiena, non dimentichiamo, la Movistar, con Lopez, con Mas, altri due uomini, molto importanti, c'è Landa, Landa, che è molto pericoloso, lui parla solamente, di podio, nell'intervista, è una sensazione, è che, possa, la sensazione, che, lui possa puntare, a qualcosa di più, e vedremo, che lo sta sapendo fare, in chiaro e classifica, generale, i nostri italiani, Aru e Ciccone. Bene, abbiamo, quindi, di concluso, anche con, con questo video, da due giorni, parte la vuelta, con l'agonometro di Burgos, una fronte di 7,3 km, se non ero, piuttosto impegnativa, con una salita, nella prima parte, e vediamo, dunque, appuntamento, al, a, sabato pomeriggio, per vedere, quello che accadrà, appunto, nella prova contro il tempo, che inaugurerà, quella della prossima vuelta. Ciao, quindi, a tutti.